Alla gentaglia, come vi va? Io sono Null, che cappio sto facendo? Con cui si cosa? Va bene, va bene. Allora, io qui ho visto qualcosa che non dovrei aver visto. Qui siamo in un altro giorno e come potete vederlo dalla mia maglietta, se è bianca, di solitamente perché sto lavorando. Ma non questa volta, è un'eccezione perché di solito le metto sempre nere. Allora, allora, qua non c'è una fottuta cosa, mi piacerebbe. Prima che perdo, ca... Allora, dovrei fare le basi per una casa e soprattutto ho una strada in modo tale che non posso perdere. Voi che cosa ne pensate? Scusate se la ghicchia un po', ma c'è tanta roba e sto anche registrando. Voi che ne pensate di questa casa? Spero che vi piaccia. A me piace. Basta. No, cominciamo comunque sia a fare... Tanto a mettere la fornace, a fare una cesta, proprio le basi di Minecraft. Dai, posiamo qui la roba. Facciamo poco casino. Ok, qui dobbiamo cuocere qualcosa? Sì, carne. Dobbiamo fare altre fornaci. Quanta roba da fare? Qui pelle, ok? Mi serve del legno per fare questo. Me ne servono due. Una, due, due, tre, quattro. Tutti contenti. Potevo metterli tutti... Vabbè, questa è una stronzata. Le siamo fatte una stronzata, ammettiamolo. Allora, le mettiamo... Qui. Si aprono. Buonissimo, perfetto. Noi posiamo tutta la roba, eccetto questo, che dobbiamo fare la fornace, quindi ci servirà... I stick. Mi serve di andare a prendere... Abbiamo degli slime. Mi serve di andare a prendere della... Come è quella che mi serve? Mi serve di andare a prendere qualcosa da mangiare. Posiamo tutto l'inutile, perché devo andare a scavare. Devo andare anche a prendere degli alberelli. I ramoscelli, gli alberelli, che due porre! Penso di fare il video e poi tagliarlo pian piano, quindi le parti più noiose, penso... Devo imparare a editare, in poco parole, a tagliare, perché andando avanti così ve le faccio le parti più noiose. Tutto inutile. Allessa già arrivando notte! E io non ho neanche una casetta e qui non stanno droppando ramoscelli. Finirò rintanato dentro un buchetto. Un ramoscello, perfetto. Così posso campare altri cent'anni. Dov'è il ramoscello? Ce n'ho due, buono. Non ho messo il ferro. Non ho messo il ferro, porca trota. Qua lo mettiamo. Stanno uscendo mob. No, vabbè, guardate lì, guardate lì. Ci sono già qualcuno a devastare la mia privacy. Vi picchio tutti. No, 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 con calma. Soprattutto è lui che mi preoccupa, non è l'altro. Perché è un figlio di una mignotta, lui. Guarda, sono disposto a farmi picchiare dallo zombie. Quanto sei testa di cazzo. Ok, ho deciso che io qua devo fare delle fornaci. Otto fornaci. Che non mi serviranno un cazzo perché non mi basta il carbone. Allora, intanto mettiamo le tutute qui. Otto, ho detto, eh. In futuro farò qualcosa. Quindi, quante negozioni? Otto, tac. Otto. Ci mettiamo domani così. Facciamo prima. Devo andare a scavare, devo andare a scavare. Ok, mo ne metto un paio di questi. Non so quante me ne faccia. Ho pure sprecato. Mi metto sei. Sette. Sette. Sedici, ventiquattro. Eh, va. Tre. So contare, sì. I cavoli. Qua, otto. E poi, gli altri si trovano in miniera. Qua, non c'era niente. Devo andare a scavare. Questa è la prima cosa. Devo andare a scavare. Dov'è la mia miniera, Uzza? E mi devo portare un... Del ligno l'ho preso. Non ho preso i ramoscelli perché sono bloccato. Ok, tu, 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 tu. No, no, no. Sì, sì. Devi andare piano. Devi andare piano. Devi andare molto piano. Oh, però mi hai dato un zoom. Buono, buono per me. Chi, chi sei? Su. Vattene, vattene, vattene. Ok. Quanto siete fastidiosi. Oh, non me dovete toccare. Non avete il diritto. Non me lo potete... Ok, posso creare un arco. Tanto, posso entrare qui dentro senza che nessuno... Prendiamo del carbone che ci serve. Con i primi pezzi. Qua, devo prendere tutto. Io so. So di essere un maniaco del... Del carbone. Ma non posso farci niente. So che il carbone lo userò come se fosse pane. Ma non c'è un modo per farmare il carbone. No, eh. Parapam. Parapapapapapam. Allora, devo fare... Stick. Stick. Non mi interessa. Ogni volta farò così. Qui c'è carbone a volontà. Quanto è lungo la vita del carbonaro. Mazza quanto carbone. Ma che cazzo era? Tutto non stock. Scusate per le parolacce. Ma ogni tanto me ne escono. E soggiornate. Soggiornate. E se rimango immobile poi è perché c'ho il dita sulla tastiera. E cerco di... Di concentrarmi nella moto. Ho deturpato il posto. Cioè, guardate. Sto deturpato. Basta carbone. Dove mi giro il giro trovo carbone. Con tre R, due C, otto AB. Che poi io qua dovrò sistemare ancora. Dovrò sistemare tutto. Prendere il diamante, il ferro. Il ferro, cazzo. Cavolo. Devo trattenermi. No, comunque qui... Non faccio... Faccio pochi passi ma c'è... Ho trovato una marea di carbone. Non so neanche io... Però ho un blocco di carbone... Una pixel art del carbone qua. Quei blocchi di carbone. Qui vedevo dell'acqua. La odio. Qua non dovevo scendere. Dovevo scendere qui. Guarda i giri che sto a fa. Mannaggia a me. Ah. Andesite mi sembra. Che sia. Scendiamo, 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 scendiamo. Quante volte potrò dire scendere? Ah, ma qui c'era il famoso cunicolo, cuniculà che dovevo... Sento door the creeper. Ferro, ferro, ferro mio, mio. Devo mettere delle fornaci anche sotto. Devo fare... Un posto solo per le fornaci. Asmeraldi. Qua c'è tutto da visitare. Dovrei cominciare. Ah. Ferro, guarda quanto ferro mo. A volontà, proprio a Iosa. Iole. Taratatatatatata. Sento d'or di lava. È normale? No che non è normale. Sì che è normale, cazzo. No. Che ho bruciato? Dai. Allora. Ma quanto c'è? Ok. Mi mettevo col tasto sbagliato, quindi mi devo preparare. No, non mettevo col tasto sbagliato. È proprio un problema. Dacci loro. Io che me devo inventare per passare? Eh? Sì, intanto sono arrivate persone. No, 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 no. Oh, ma quanto ce n'è? Dai. Beh? Lo togli più? Vabbè. Ha deciso di rimanere proprio sul diamante, eh? Si è fissato. Si è fissato. Ti devi togliere. Ti devi togliere. Ah, se me vedete sudare è perché sono costretto a rimanere con questa maglietta e si so. Ti devo allargare. Devo cominciare a fare il... Mmm, tre da qui e tre da là. Non mi piace. Ok, ragazzi. Si comincia a fare cuniculi. Da... Da qui. Proprio non ho una ceppa da fare. Questo è l'inizio della mia lunghissima caperna. E cominciamo a trovare questa redstone. Solo che dobbiamo salire per prendere il ferro. Quindi noi che facciamo? Ci ripetiamo in superficie. Anche perché potrei farvi sorbire queste cose di scale. Penso che la prossima volta andiamo a visitare questa caverna. A prenderci il carbone. Queste scale mi danno fastidio. Non c'è niente a fare. Ok, ok. Siamo in superficie. Vediamo un po'. Qui l'alberi sono cresciuti. C'è sempre la neve. E qui quanto sta? 52. Buono. Buono. Qui 14. Questi non l'ha fatti. Adesso devo fare un sacco di stone. Ho intenzione di fare quella specie di brick dei dungeon. Però vabbè. Avete capito quale, no? E... Del parquet. Si può fare il parquet. Si. Le listarelle di legno, no? Così. Proprio come sprecare... Ah, è il legno oscuro. Voglio fare proprio un bel parquet. Un bel parquet. Dai, quanti problemi. Quante me ne escono? Sei. Noi facciamo un paio e vediamo se ci bastano. No, per niente 24. Però intanto cominciamo a fare la struttura, la base, quello come si chiama. Dobbiamo cominciare a scavare. Ok, ok. Cominciamo a mettere qui le basi del parquet. Non dovrebbero nascere mob. Tanto penso che non mi basteranno mai per questo. No, ti odio. Non è che la roba vola. No, che palle proprio quando non c'ho la roba. Si, mo, 50 anni dopo. Il problema è che questo gioco è che dopo un po' non riesco a giocarci più di tanto. Io ci gioco una mezz'oretta al giorno e poi basta perché... Non mi convince neanche a me. No, non è vero. Non è che non mi convince. È che ancora non sono abituato e non so cosa fare. Per prima cosa, per esempio, crearci una pala. Una pala. Togliere tutta questa fofo 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 fofo. Me la toglierò proprio davanti a voi perché io non c'ho la gana di tagliare. No, non è vero. Starò in silenzio e taglierò. Ok, dopo aver tagliato tutta la roba ci serve un piccone perché devo togliere quell'altra roba. Sto sudando come un matto. Fa caldissimo. Perché sono... Perché devo registrare la maglietta? Tutti se lo domandano, eh? No, nessuno se lo domanda. Soltanto io me lo sto domandando adesso. Ma... Non voglio registrare a petto nudo. Almeno fino a quando non è richiesto. Che è un'altra cosa. Sarebbe una sfida, un'opzione. Proprio quando arriveremo a totte mi piace, di totte... Quando ci saranno commenti di donne che diranno totte... No, vabbè, proprio no. Ok, facciamo questo perché intanto il legno a noi non ci manca. Abbiamo proprio tanta roba. Non ci interessa quanto. 64 noi facciamo tutto. Perché voglio proprio tutto. 64. E cominciamo. Ci vediamo quando ho finito qui. Ragazzi, ragazzi. Ma io stavo pensando che se non trovo pecore è tutto un problema. Quindi quei ragni che usciranno saranno tutti sacri. Per il semplice fatto che sono l'unica cosa con cui mi posso fare la lana. Il problema è che devo trovare delle pecore. Perché se no non posso fare le mie pecore di montagna qui sopra. Dovrò girare in lungo e in largo per questo posto. Mi sta facendo male la mano? Ha finito già il legno? Ma quante... Ma dai! Ne usate 62. Pazza quanto è grossa casa. Però, intanto, comodissimo parche. Qui prendiamo la nostra ascia. Ascia. Intanto, andiamo a prenderci. E vabbè, boom. Guarda quanta roba. Intanto, prendiamo. Devo dire che è una palla. Senza parlare e tutto il resto. Zitto, muto. Ma chi me lo fa fare? Sono un chiacchierone? No. Però, io qua vedo della legna. Tanta legna. Quindi io me lo prendo. Il problema è che forse ci sta queste pale... Ma io posso fare un popazzo di neve e costruirmi la casa di neve? Per il popazzo di neve questo è oltre. Farò un bel cappellino per il popazzo di neve. Ma quindi aspetta, potrà nevicare in questo posto? Oh mio Dio no. Dai, tanta neve, bella. Mentre aspetto. Certo ci saranno le bufere. Quello che voglio. Palle di neve, a go go. Mi mancano le zucche. Le galline, le zucche. Tanta roba mi manca. Intanto continuiamo a prendere questo legno. Mi serve il legno oscuro. Oscuro, signore. Devo trovare delle canzoni. Anzi, devo trovare anche un intro. Perché lasciare così vuoto l'inizio del canale non è che mi piace più di tanto. Quindi cercherò un intro che mi convinca. Un intro boh. Vedremo quello che posso trovare. Un po' generale. Ma dimmo. Ma dinamo. Ma 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 ma. Allora, qua non cascano proprio niente. Beh? Legno. Legno, legno, legno. Parcure. No! Mi servirebbero che cascassi. Per favore. Beh? Tu, qui. Preso del legno. Perfetto. Non c'è niente qui sopra. Intanto sprechiamo la durabilità. Dell'ascia. Dai, perché no? Non scaviamo con questo. Ma sta molto più lento. Ecco, bravo. Fatti male. Fatti male. Va bene ragazzi. Scusate se interrompo così improvvisamente. Ma una certa ho detto. Finiremo la casa. Non è vero che la finiremo. Ma almeno continuiamo a portarci pian piano al finire la casa. Almeno il parquet della casa. E poi costruiamo questa casetta di legno. Ok? Spero che il video vi sia piaciuto. Scusate se è un po' moscio. Ma minecraft. Minecraft vanilla. Non riesco a renderlo molto attivo. Perché manca quel brio di pericolosità. Qualcosa del genere. Dovrei fare una marpa avventura. Non lo so. Ci penseremo in futuro. Quando ho appreso le basi di certe cose. Insomma. Va bene ragazzi. Se il video vi è piaciuto. Mettete un mi piace. Condividete. Iscrivetevi. E commentate. Per sapere. Darmi consigli sulla serie. Che cosa fare. Perché io non ho proprio idea. Di che cosa fare. Va bene. Per questo video è tutto. Bye.